Cortona all'avanguardia in tema di diagnosi genetica preimpianto riguardo la fecondazione medicalmente assistita. La prima amniocentesi anticipata d'Italia è stata effettuata proprio a Cortona, all'ospedale Santa Margherita, che ospita uno dei pochi centri di procreazione medicalmente assistita. Si tratta della biopsia su tre embrioni di una coppia. Il partner maschile è affetto da aniridia congenita, una malattia genetica rara che colpisce la vista ed è caratterizzata dalla formazione incompleta dell'iride. L'esame ha lo scopo di verificare la presenza di eventuali patologie ereditarie prima dell'impianto in utero dell'embrione. Una tecnica fino a poco tempo fa vietata dalla legge 40, la prima volta che viene tra l'altro eseguita in una struttura pubblica. Un risultato ottenuto anche in questo caso grazie alla collaborazione tra la struttura di PMA di Cortona e il laboratorio di genetica medica delle scotte di Siena. I complimenti dell'assessore regionale alla sanità vanno infatti ad entrambe le equip dirette rispettivamente dal professore Luca Mencaglia e dalla professoressa Alessandra Renieri.